Permettemi di ringraziare anche i montatori perché oggi hanno fatto un lavoro con tantissimi servizi. Sì, Mirko Loghe ha un montaggio incredibile, velocissimo, con dieci servizi e solo una persona. Grazie Mirko. Luca Rudiri, Cristina Saccone, ci troviamo domenica prossima, Precisi 18 e 30. Un'altra puntata di studio, Novantensi, si avviciniamo alla finale di stagione. Buona settimana a tutti.